Musica Iga che caldo anche che è Vediamo subito le previsioni per la settimana ragazzi Le previsioni per la settimana In Lombardia al mattino nubi sparse sulla pianura con isolate piogge su settori centrali Stabili altrove con cieli sereni o poco nubolosi Al pomeriggio si innaugano condizioni di tempo generalmente stabili salvo qualche temporale In Italia nubolosità irregolare con i deboli piogge su Lazio e Abruzzo Più asciutto altrove al sud e sulle isole Nubolosità irregolare in trance su tutti i settori Ma senza fenomeni di rilievo salvo locale piogge su Sardegna e Monizia Insomma le è andata bene Ehi ragazzi rimanete sempre sintonizzati su Chrome TV Come? Perché? Per quando? Per sentire le previsioni col vostro amico Dari Ciao a me!